L'inclusione sociale attraverso il rapporto con il fenomeno cittadino del Barletta Calcio. Un momento di gioia per i ragazzi dell'Angioletto, centro polivalente per disabili nel quartiere Barberini. La tifoseria della Curva Nord del Barletta ha stretto un forte legame con i tanti associati del centro, con tante attività collettive che hanno caratterizzato il venerdì sera. Sì, abbiamo fortemente voluto questo incontro come struttura perché lo sport è comunque un veicolo di messaggi positivi. Il messaggio che vuole lasciare questa giornata è quello che fornendo gli strumenti a tutti, anche nel campo dello sport, ovviamente calibrando gli obiettivi in base alle proprie potenzialità, tutti possiamo raggiungere la mita. Iniziative a tema Barletta Calcio per i ragazzi dell'Angioletto con gli Ultras Biancorossi che hanno donato gadget e hanno trascorso del tempo negli spazi interattivi del centro. Un modo genuino per legare calcio e città attraverso l'inclusione sociale ed un fenomeno, quello calcistico, che sta riscontrando grande affluenza in ogni ambiente cittadino. Il mondo Ultras per noi è vivere il quotidiano, essere, mischiarci alla gente, trasmettere i nostri valori. L'Ultras noi lo definiamo un essere puro, un essere leale e questi siamo noi. Noi siamo fatti così, oggi siamo stati invitati in questa associazione e per noi è stato un onore essere presenti qui perché quando c'è qualcuno che apprezza ciò che fai e soprattutto ha voglia di conoscerti, non puoi fare altro che dire sì, ci siamo.